La nostra posizione come Fratelli d'Italia è sempre la stessa, sia a livello nazionale che a livello siciliano noi non siamo alleati con il Partito di Alfano, poi se si vogliono fare percorsi di carattere civico regionale questo è accaduto in Liguria, è accaduto in varie realtà, lo rimando alla scelta di Nello Musumeci che non mi impiccio di questioni regionali, però non si usa la Sicilia per fare accordi e alleanze con il Partito di Alfano a livello nazionale.